E adesso andiamo a Monte Sant'Angelo dove si è svolta una serata di cabaret per accogliere il nuovo anno ormai alle porte. Sentiamo Marilena Farinola. Salutare il nuovo anno che si appresta ad arrivare con gioia e speranza e perché no anche con un pizzico di ironia. Lo accolgono così i ragazzi del comitato San Michele Arcangelo preseduta da Antonio Renzulli che hanno voluto organizzare una serata all'insegna della comicità e del sano divertimento coinvolgendo il pubblico presente in sala con cabarettisti di fama nazionale. Sul palcoscenico dell'auditorium Bronislao Marchivitz di Monte Sant'Angelo il duo comico foggiano formato da Dino la Cecilia e Fabio Conticelli reduci di due partecipazioni come attori al film di Pio e Amedeo quasi amici e ti mangio il cuore del regista abitontino Pippo Mezzapesa. E poi i Ditelo Voi conosciuti al grande pubblico per i loro esileranti sketch al programma televisivo Zelig su Italia 1. Grazie al comitato per averci regalato questa bellissima serata di comunità una serata in cui abbiamo gioito, abbiamo scherzato abbiamo vissuto una comunità allegra, una comunità stretta insieme nel divertimento e in un momento importante di condivisione in questo periodo importante che è il periodo delle festività talizie. L'evento dal titolo Comedy Night è inserito nel programma Christmas Festival patrocinato dal comune di Monte Sant'Angelo. Abbiamo lasciato a casa tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni e davvero è stata una serata rilassante, ci siamo divertiti quindi un grazie, grazie, grazie va a loro, ai ragazzi del comitato Festa.